Ad accogliervi sarà Conegliano Bentrovati al meteo Un'intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia determinando condizioni di maltempo che si protrarranno per qualche giorno Il dettaglio di giovedì 11 maggio Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità Nel corso del pomeriggio poi probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni sui settori più meridionali della pianura Temperature con contenute variazioni di carattere locale minime tra 9 e 12 gradi massime tra 11 e 15 all'incirca Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia dove il cielo sarà anche in questo caso coperto con piogge persistenti localmente intense neve abbondante in quota tra i 1600 e i 1700 metri all'incirca Temperature minime tra 11 e 14 gradi massime sui 14-17 gradi Infine diamo uno sguardo Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove domineranno ancora le nubi con rovesci un po' ovunque come vediamo Temperature minime intorno ai 10 gradi massime sui 13-14 gradi Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto Grazie per l'attenzione Arrivederci Ad accogliervi sarà Conegliano